Ciao a tutti bella gente, sono tornato, io sono un ragazzo educato, non vado a mio amico così, eeeh, balbuzzi un po', però non vado a mio amico così. Allora, parodemente, farò subito un video e lo posterò. Come vedi non ti ho dedicato tempo perché tu non meriti un cazzo. E' inutile che mettere le mie immagini nei tuoi schifosi video, vuoi fare della satira che non riesci a fare. Credi che così hai fatto un bel video dove carichi un'immagine e metti il mio volto, tra virgolette, eh? Credi che vai avanti così? Guarda che non riesci ad andare avanti, caro Sergio. Caro Sergio, a parte che mi hanno fatto vedere un pezzo del tuo video dove hai caricato che dici di essere tu, ma quanto cazzo fai schifo? Ma a parte che sei proprio un'orrenda visione, e te lo dico subito, sei proprio brutto, sembra che sei anche senza denti. A prescindere da questo, visto che tu offendivi Wolfram, guardati tu che fai proprio schifo. Sei un lurido pallone gonfiato, una palla di lardo. E tu credi che puoi offendere gli altri? Ma guarda che fai schifo. Non puoi offendere gli altri, cara merdina. Non sei un cazzo di niente. E poi, cosa hai voluto dimostrare con quell'inutile tuo video? Che cerchi fama. E sai perché cerchi fama? Perché colui che sostiene di portare avanti una missione virtuale contro una persona, o meglio, contro un canale, non tende a mostrarsi in volto. Usa questa che uso io, perché è il pensiero quello che conta, non il volto. E io questo l'ho dimostrato. È il pensiero quello che conta. Tu, invece, cerchi solo fama, ma non l'hai avuta. Hai solo una marea di dislike, che non sono account falsi. Perché se tu hai 500 visualizzazioni e hai 40 dislike, su 500 visualizzazioni sono reali. Non dire account falsi. E poi sei tu quello che crea una marea di account falsi. E che li ha? Lo sappiamo tutti. Lo sai anche tu. Tu, sopra di tutto, lo sai benissimo. Sai che questo è vero. E chi dice, eh, come si fa ad entrare con gli account falsi? È impossibile. No, è facilissimo. Però io non sono come te, per esempio. Io quando dico qualcosa, quando scrivo, quelle poche volte che riesco ad entrare su YouTube, commento con il mio di account. Capito, balbuziente? È inutile che fai video dove fai vedere, mi hanno clonato l'account. Ma puoi essere sempre tu stesso, mi dici quello che vuoi. Ed in realtà, poi dici, eh, era un account falso. Tu, per esempio, hai clonato il mio di account. Lo hai chiamato buon cretino. Però credi di andare avanti così. Tu in confronto a me non sei un cazzo. Ricordati. E no, come dici tu, l'avvocato Boschetti. Il primo che ha caricato i video sulla questione di Matteo Montesi. È stato io, sono anonimo. È stato proprio lui. Dopo l'avvocato Boschetti. L'avvocato Boschetti, i primi due o tre video che ha messo, sono quelli presi dal canale di Io sono anonimo e caricati sul suo. Hai capito? È colui che ha mostrato degli screenshot nei video. Inizialmente sono stato io. L'avvocato Boschetti mostrava delle ispezioni di video di Montesi. E di fatti è stato chiuso anche per violazione del copyright. Il suo canale. Caro demente. E chi è che è stato, che ha caricato per terzo i video? Verbalmente. Anzi, come secondo posto. Perché il primo che li ha caricati, io sono anonimo. Io ho caricato i video per secondo. Per terzo quello di Coparadosi. E qui non stiamo a fare una sfilata a chi è stato il primo, il secondo e il terzo. Ma questo per far vedere a te un demente, che ti invendi una marea di cazzate, che non sei un cazzo. Perché cerchi solo Fana. Caricherò un video. Tu verrai sputtanato. Alla grande. Sappiamo anche dove abiti. Come ho già detto, dalla settimana del 25 mi troverò a Milano, visto che mi vuoi picchiare. Vuoi menarmi le ginocchiate nella bocca. E li hai detto tu sul tuo inutile schifoso canale, nei tuoi video. Perché non mostri le palle e me le fai vedere. Faccia a faccia. Io qui su YouTube non mi mostro. Però se tu vuoi avere un confronto verbale con me, fatti vedere. Vieni. Eh? Vieni. Vediamoci e te. Fammi vedere di cosa sei capace. Altrimenti sei tutta aria. Bla 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 bla. Ecco quello che sei. Parli parli. Non sei un cazzo. Con il mio canale ti schiaccio. Il mio canale è superiore al tuo. Lui è sempre stato. Sempre. E se io volevo fama, come te, avrei potuto averla. Ma io non la cerco. Non me ne fico un cazzo. E questi tutti lo sanno. E quello che fai tu su Montesi. è persecuzione. E non dici un cazzo di reale. Anzi. Guarda un po'. Da quando non carica più video buncherino su Montesi. Dov'è finita la faccenda Montesi? Non si conclude più niente contro di Montesi, vero? Perché tu sei una nullità. Io ho chiuso la saga. Tu non riuscirai mai più a concludere un cazzo. Montesi oramai è libero. E tu sei in trappola.